la storia Oggi è il 29 novembre 1947 l'ONU approva la creazione dello Stato di Israele 1976 Gruppo armato assalta la sezione dirigenti Fiat di Torino Nasce prima linea 1924 Muore Giacomo Puccini Commenta il fatto del giorno Enzo Del Rico Direttore del Corriere del Mezzogiorno Oggi parliamo del fatto che siamo tutti migranti Ed Ellis Island ne è la testimonianza più visibile Grazie a tutti